In sella a Doroteo e Rospetto qualcuno ha vinto la paura delle vertigini e oggi va a trotto come un vero cavaliere. Prendendosi cura di loro, spazzolandoli prima di fallentare nel maneggio o preparandogli il fieno da mangiare, qualcun altro ha finalmente ritrovato il sorriso. Fare squadra, accorciare le barriere, migliorare l'autostima delle persone diversamente abili o con disagio, aiutandole a riapproparsi del proprio equilibrio fisico ed emozionale e a relazionarsi con gli animali e grazie ad essi con gli altri. Nasce con questi nobili obiettivi il progetto di sport e quest integrato a cavallo delle emozioni, realizzato in collaborazione con il comune di Bagnarripoli. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di rendere questo progetto sempre più strutturato e strutturale, anche grazie al lavoro delle scuole noi vorremmo aprirlo anche agli studenti con disagio ad esempio. Siamo alla ricerca di nuovi partner privati ovviamente ma anche pubblici a partire dalla regione, la società della salute Firenze Sud-Est per disporre di quelle risorse necessarie per rendere strutturale e duratura nel tempo questo progetto. Ideato dall'istruttrice Paola Vallone e organizzato dal centro ipico Lantellino e dalla fondazione Fiorenzo Fratini Onlus che lo sostiene economicamente per il primo anno di vita dopo averlo recentemente potenziato con l'acquisto di una sella speciale in grado di facilitare la monta a cavallo per tutti. I ragazzi hanno acquisito un po' di tecnica equestre a fare il passo in maneggio con serpentine e barriere, qualcuno di loro ha già iniziato a trottare e qualcuno ha fatto, ehi buongiorno, anche un piccolo saltino con le barriere. Questi animali generano e trasmettono tante emozioni. Noi daremo un contributo per avere un corso per 10 ragazzi per un anno, quindi questo penso che sia una cosa bella e ci auguriamo che possa essere, come ci eravamo detti, un progetto che possa andare avanti.